Maria Anacivita è chiamata a guidare un gruppo di ragazze per il campionato che si appresta a disputare l'Aquila 1927, la prima squadra femminile, quali sono le prospettive per quest'anno? Il secondo anno che facciamo in questo campionato, sicuramente l'obiettivo principale è migliorarsi l'anno scorso abbiamo fatto miglior attacco e seconda miglior difesa, quindi pensiamo di migliorarci anche su questo punto abbiamo fatto 6 conti in classifica, quindi speriamo di migliorarci fino a vincere il campionato la cosa più importante è il movimento, vorrei che l'Aquila si accorgesse della nostra presenza vorrei che l'Aquila si accorgesse di quanto noi stiamo costruendo per il calcio femminile e per questo movimento quindi obiettivi sia sul sociale che per quanto riguarda obiettivi prettamente calcistici abbiamo un gruppo forte, ragazze che sicuramente non sono di questa categoria, che hanno scelto l'Aquila sperando che questo possa portare loro a grandi taguardi, sia individuali che collettivi